L'azienda ha già deciso, si va verso la chiusura dello stabilimento e talcementi di Scafa. I sindacati sono sul piede di guerra perché dicono non essere stati rispettati gli accordi sottoscritti a gennaio e sono pronti a rivolgersi al giudice del lavoro. Anche il sindaco di Scafa Giancola non demorde e scrive all'Agenzia del Demagno chiedendo un'ispezione per valutare le condizioni dell'impianto della Sama, società demaniale unica in Italia controllata dai talcementi e titolare di una concessione legata alla produzione di derivati dell'asfalto. Il sindaco chiede la valutazione dello stato dei beni concessi ed un'indagine per verificare se la Sama, nel corso dei 30 anni di concessione, abbia o meno impoverito l'azienda pubblica riducendone le capacità produttive e commerciali. Ricorda il primo cittadino che l'atto di concessione imponeva alla Sama l'obbligo di provvedere a proprie spese, a innovazioni e sostituzioni al fine di mantenere immutato il valore commerciale tecnologico dell'azienda, cosa che secondo Giancola non è stata fatta, anzi è stata impoverita sia in termini commerciali che di manutenzione. Il primo cittadino incalza il danno arrecato dalla Sama al demanio ingente e chiede perché non siano state più prodotte le mattonelle di asfalto molto richieste dai mercati del sud.